Ristorante self-service pesce azzurro in barca. Dimmi cosa vuoi mangiare senza dirmelo. Proponiamo tre piatti freddi a 12,50 euro da gustare al tramonto, seduti ai tavoli in coperta o nei ponti con una splendida vista sul porto storico della città. In alternativa anche da portare in spiaggia. Pesce azzurro in barca, porto di Fano, banchino 8. Salite a bordo dalle 19.30 alle 22 tutti i giorni tranne il lunedì. Riapertura da giovedì 1 luglio.